ciao a tutti con questa carrellata che ormai è un grande classico del rossi che saluto dietro la telecamera e che mi aiuta sempre in questi unboxing come avete visto insomma finalmente arrivato il momento abbiamo il nintendo switch e siccome come ricordava giustamente filippo faccetti qualche tempo fa su facebook ormai gli unboxing sono diventati le televendite noi vi televendiamo in realtà no vi presentiamo la nuova console e facciamo questo unboxing che tornerà utile per vedere cosa ci sarà dentro la confezione che se siete interessati chiaramente al mondo nintendo andrete ad acquistare tra pochi giorni allora questo unboxing ve lo anticipo è totalmente alla cieca siccome sono totalmente incapace di ripiegare una piantina una cartina una piantina insomma non la pianta vegetale si intende nello stesso modo figuriamoci ricomporre un unboxing per cui lo apro insieme a voi questo nintendo switch mi dovessi bloccare a restare sappiate che è il bello della diretta allora la prima cosa a notare è che è molto piccola quando mi è arrivata la console a casa mi aspettavo il classico scatolone e invece no c'è questo scatolino foto eh come vedete nulla di particolare qui chiaramente c'è l'attenzione ai due joycon che andremo a vedere a breve si apre da qua si tira sotto e una volta dentro abbiamo qua e fate conto che questa è la mia mano ecco vedete quanto è grosso il nintendo switch è veramente piccolo allora si tira via qua e spacchettiamo togliamo dal cielo fan la console ecco questo è il nintendo switch veramente portatile non chiaramente portatile come lo smartphone però se considerate un ipad diciamo che è un phablet come come si dice in geico insomma quei telefoni a metà strada tra lo smartphone e il tablet e questa è la base dello switch qui dentro c'è tutto qui c'è la cpu c'è la maschera grafica tutto tutto il resto che c'è e serve semplicemente a ricaricarlo o a connetterlo al televisore quindi appoggio qua per un attimo la base anzi scusate il dispositivo e vi faccio vedere i due joycon i due joycon sono i due paddini che vanno poi attaccati lateralmente sul nintendo switch ma possono essere anche usati separatamente e sono questi questi sono molto piccoli anzi scusate sono questi perché i tasti della spalla sono in alto sono veramente piccolini come li vedete nella mia mano questo è un esempio di quanto sono grossi rispetto a una mano e hanno qua sopra due tasti per le spalle che durante la mia prova a londra ammetto di aver schiacciato ogni tanto entrambi contemporaneamente per sbaglio vedete che basta un dito per coprirli tutti e due quindi questa è un po' la difficoltà principale in più c'è da notare questo sfalsamento dei funghetti questo perché? perché quando lo si vuole giocare chiaramente qua un player siamo abituati ad avere il funghetto a sinistra e i tasti a destra se questo va in mano di un altro deve avere anche lui il funghetto a sinistra però messi assieme fanno sì che uno sia più in alto e uno più in basso se c'è un gioco dove si deve giocare tutti e due qua il pollice casca naturalmente sul funghetto e qua va tenuto in una posizione un po' più contratta diciamo questa è una cosa che ho trovato un po' scomoda dopodiché sperando di riuscire ad agganciarli al volo si infilano qua dentro incredibilmente ce la sto facendo vedete si incastrano qua dentro e questo è il Nintendo Switch al completo pertanto quando poi dopo lo si userà in mobilità e si giocherà qui abbiamo un dispositivo portatile più piccolo di un iPad ma molto più comodo da usare rispetto a un iPad perché ci svincola dal vincolo del gioco touch ci permette di essere usato tranquillamente come si vuole appoggio un attimo il Nintendo Switch e vediamo a questo punto cosa c'è ancora dentro rossi dove stai andando vediamo qua cosa c'è dentro la confezione ecco si rimuove il cartone e abbiamo tre scomparti direi allora questo è quello con la garanzia direi poi questo è un cavo HDMI che sembra scontato ma non in tutte le console viene sempre dato in bando quindi almeno c'è e questo direi che è il caricabatterie perché appunto la console può essere caricata tranquillamente in mobilità per cui domani vado in aereo attacco questa la presa della corrente naturalmente adesso che avevo lo switch troverò aerei senza presa della corrente ma questa fa parte della vite e comunque posso attaccarlo e giocarci quanto vuole poi andando allo scomparto centrale si trova questo questo qua che cos'è vi domanderete voi è il dispositivo a cui attaccare i joystickini quando si torna a casa perché naturalmente adesso non capirò come si smolla vediamo speriamo che sia ce l'ho fatta incredibilmente ragazzi è una diretta finora fortunatissima quando poi io torno a casa e attacco lo switch sulla base e voglio andare avanti a giocare che faccio? attacco questi qua su questa base vedete e tadaaa ho il joypad casalingo per giocare con lo switch e gioco qui tranquillamente quindi questo marking genio abbastanza geniale devo dire di nintendo permette di giocare a casa come mobilità senza soluzioni di continuità appoggio a questo punto qui il controller e vediamo cosa c'è qua dentro ecco questi sono li vedete i laccetti adesso li tiro fuori dal cielo fanno i tiro fuori solo uno giusto per darvi l'idea perché una volta di più quando invece verrà usata questa console per fare i classici giochi alla Wii Sport ok? quindi quelli dove bisogna tenere in mano questo accrocchio e muoverlo il famoso motion control il rischio chiaramente è che questa cosa finisca in giro per il salotto o nell'occhio di qualcuno con queste fascette si prende naturalmente adesso non mi verrà perché ce l'ho fatta anche stavolta si infila qua al polso e avete la classica sicura per evitare che perdiate colti dall'enfasi il Joy-Con come si chiama e questa qua a logica nel terzo comparto ci sarà ci deve essere la base perché come vi dicevo no? potete giocare anche a casa anzi dovete giocare a casa anche questa è la base si connetterà a una presa della corrente dopodiché quando arrivate a casa voi accendete la console la prendete la mettete qua dentro la console una volta che è qua e si appoggia qua dentro la console si è innanzitutto si ricarica e poi il segnale andrà automaticamente al televisore vi posso garantire che sulla base della mia prova di Londra il quando si si incastra qua la console il passaggio sul televisore è pressoché istantaneo quando si stacca e si fa uscire lo switch dalla base si accende istantaneamente cioè il passaggio tra come dire versione casalinga e versione mobile è veramente repentino se invece nel frattempo ripongo e chiudo la scatola per dare un po' di ordine a questa sala se invece voi doveste decidere che si è carino il il pad dello switch messo così com'è però preferite adesso naturalmente non si rivolta più ma se invece preferite qualcosa di più comodo ecco c'è anche il nintendo switch pro controller che è un pad tradizionale che adesso vado a farvi vedere e che oggettivamente rappresenta una soluzione più comoda se vogliamo chiaramente ogni volta a staccare e attaccare i joycon il pad è divertente però è un po' macchinoso quindi se volete una vita più comoda questo è un pad dalla qualità costruttiva devo dire normale ma nulla di particolare i pad della concorrenza come materiali sembrano un attimino più curati e rifiniti però comunque diciamo è un pad che fa tranquillamente il suo dovere anche lui con i due funghetti sfalsati uno su uno giù e purtroppo nel senso gli hanno inventati loro i gamepad come li conosciamo però i tasti A e B e Y se non X invertiti rispetto a quello a cui ormai siamo abituati per cui io so già che ogni volta che gioco a un gioco nintendo devo mettere in conto che i primi 30-40 minuti mi devo riabituare che quando dice A premo B e quando dice B premo A e viceversa andiamo a questo punto a chiudere velocemente l'unboxing di quello che ho ricevuto da nintendo e che installerò appena finito questo filmato con The Legend of Zelda Breath of the Wild eh volete vedere come sono i giochi per nintendo ecco meno male che perché i giochi sono questi i giochi stanno su questi micro schedine che sono delle schedine SD normali ma questo è un dito una falange e potete vedere qual è la dimensione quindi i giochi per nintendo switch sono minuscoli si mettono qua sono alla fine grossi anzi forse anche meno di quelli del 3DS in questo momento non ho una cartuccia del 3DS sotto mano ma anzi fatemi guardare forse riesco a reperirla si la reperisco ecco per darvi l'idea questa sopra è una cartuccia del 3DS questa sotto è una cartuccia dello switch con Zelda Breath of the Wild quindi qui ci sta meno roba che qua sopra ma questa è molto più piccola ehm tenendo in mente che questa è una console pensata anche per i bambini piccoli io vedo già due rischi il primo è questa cartucina vada a finire da qualche parte sotto il divano tra i cuscini quindi state sempre molto attenti la seconda è che questo è un bellissimo dispositivo chiaramente non posso trasmettervi le sensazioni che dà al tatto ma sono molto buone è veramente bello chiaramente se questo vi cade per terra è diverso che se vi cade per terra questo con un guscio ho chiesto a Nintendo nel corso di un'intervista che ho fatto recentemente ai vertici di Nintendo a Parigi cosa succede cioè quanto costa cambiare il vetro da chi lo porto quanto tempo ci mette la riparazione mi hanno detto che sono informazioni che non mi possono ancora dare quindi qualora vorreste comprare Nintendo Switch non solo per voi ma anche per i vostri figli attenzione a cosa fanno di questo e a cosa fanno delle cartucce perché il rischio concreto è che vi troviate dopo a litigare in famiglia comunque resta il fatto che concludendo Nintendo ancora una volta è riuscito a fare una console diversa da tutte le altre abbiamo affrontato nel corso di vari articoli quali sono i pro e i contro di questa console e vedremo a breve se le cose saranno veramente come le abbiamo immaginate ma al di là di questo devo dirvi che mentre sin dall'inizio quando ho provato per la prima volta i Wii U ho avuto delle sensazioni devo dire abbastanza negative qua c'è un bel oggetto un dispositivo intelligente e che soprattutto inverte quelli che erano i presupposti del Wii U su Wii U avevamo una base pensante e un pad scusate un tablet che serveva a nulla se non a ritrasmettere le immagini o ad avere il controllo del gioco qui abbiamo uno switch non so se il nome sia stato pensato a questo ma è esattamente l'opposto cioè la base che si mette sotto il televisore non serve a nulla se non semplicemente a ricaricarlo e a connetterlo alla TV invece il padone che prima non serveva a nulla qua invece è la testa pensante c'è dentro tutto qui e quindi è portatile e si potrà giocare in giro cosa succederà? lo vedremo prossimamente comunque senz'altro brava Nintendo per aver una volta di più creato qualcosa che mancava il mercato dirà se era giusto che mancasse o se invece è quella trovata geniale come il vecchio Wii che fu va detto che l'introduzione anzi la reintroduzione del motion control e quindi giochi come One to Switch hanno la potenzialità per ripetere il successo del vecchio Wii e dell'accoppiata console più Wii Sport peccato che One to Switch non sia in bundle sarebbe stato perfetto lo sarà sensato in futuro però diciamo che se questa console riesce ad andare a risvegliare quei oltre 100 milioni di persone che comprarono il Wii anni fa questa console sarà un successo assicurato con questo è tutto vi ringrazio restate sempre con noi e chiaramente ci vedremo per le prossime dirette e prossimi unboxing ciao ciao